Dopo non so quanto tempo, non lo so, che è uscita Granny, quella normale, da sola, è uscita anche Granny 2 con il nonno. Il nonno è più brutto però della nonna. Sembra... non so cosa sembra. Siamo insieme a Darianno. Ciao! Allora io già qualche partirello l'ho fatta, io non so tutto da casa, perché hanno detto che c'è tutto un set di cose elettroniche. Sperando che non mi arrivano i messaggi però, perché ovviamente stagione la tablet, ovviamente. Quindi c'è il problema dei messaggi, ma là dovrebbe essere risolto. Ho la voce un po' fatta, quindi mi viene da parlare anche un po' piano. Questo non lo so. Grazie nonno, questo qua sarebbe un letto. Ok. 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 ok allora controlliamo tutto qua meglio la barca ok questa è la stanza non mi sembra una logica ok qua mi chiudo ok mentre ciò mi sarebbe una battuta propria cioè devi parlare però qualcosa dirlo ok questo che sarebbe è il piano che mi hanno detto che era tecnologico ma in realtà in tedesca è stato sempre un po' antica non so che quello ci sia ah boh però povera che sono spawnati manca solo la nonno di uccidere la nonno è già ucciso sta chi va per restare qua ah no già la nonno l'ha accesa allora come lo faccio non lo farà qua come non si può scappare o no non è con no ah qua so che c'è la safe game questo qua non è non ho visto dai no 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 ora non ho visto non mi hai visto non hai visto il tuo nepotino ma sei buggata l'ho buggata sono troppo forte l'ho buggata non sono troppo forte non è barare questo mi ero soltanto nascosto bene questo non è barare il foglio che l'ho sapiata veramente potrebbe essere barare però non è perchè io mi ero soltanto nascosto ma non sapevo che si potrebbe in realtà lo sapevo perchè li apri? se c'è qualcosa ma io lo voglio che si sbagga perchè sennò è una partita di schifo l'ho mai fatta buggarsi? l'ho mai fatta buggarsi? boh mi puoi uccidere? che brutta che sei era un condimento era un condimento ora dorme ora dorme non può essere se si è buggata la partita no si è boccato qualcosa però anche il nodo allora ragazzi la partita la sto rifacendo quindi questa volta sarò molto più scarso quindi perchè se mi spunta il piede di porco subito sono più forte ma se mi spunta chissà dove lo devo trovare sono più scarso se capisci questo e che tipo quello che mi aiuta per prendere il cosiddetto come il teaser ho dovuto arrivare quindi a partita perchè l'unica volta mi era riuscito quindi si era buggato si era buggato che fai? sto cercando se qua c'è qualcosa infatti infatti non si buggi per ora però che cavolo non c'è niente no no vieni non stavo dicendo che le spuntava anche il nonno dai nonno girati dai no nooo che brutta ora devo rifare tutta tutta un'altra cosa il tuo nome mi ha rotto non mi ha fregato quindi ho spinto che spuntica lui spuntava il divano sono un cagato qua spuntano se non mi sbaglio il nonno qua spuntano se non mi sbaglio il nonno è morto era morto è già passato un minuto allora la prima cosa che devo fare è uccidere tutte e due così il nonno mi dà la chiave per andare a vedere la camera e il nonno e il la nonna così si libera che la nonna sta sempre al piano di sopra perchè? cosa è il caso? la nonna sta sempre al piano di sopra perchè? che dove spuntano lei ma com'è? l'ho lisciato scusate niente manca sempre al piano di sopra manca sempre al piano di sopra ho visto il nonno venire da là e il nonno venire da là dal sopra cioè io mi dico come fanno a controllare le stanze se se sono uno al piano di sotto e uno al piano di sopra che però subito dopo un po' scende dai non ti impigliare questi sono questi sono due mesi se ti impigli va il mio proiettile no non lo puoi uccidere? se non ho il proiettile non lo posso uccidere dovrei cercare di di andare al piano di sopra la chiave della si è la chiave della sicurezza no ho perso anche il proiettile siamo a posto no a posto ho sposto qua c'è uno stato non ho 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 No, c'è l'anno. Riturante. non si gira ma come mi ha preso quinto giorno forse prima ho sentito il rumore di ispirapolvere ma forse è piano perché di come mi sono messo per non farla sentire ho fatto di tutto per non farla sentire infatti forse non si sarebbe sentita dai però saluta grazie dai rompete voi non mi ha visto non mi ha detto abbassi che c'è che c'è che c'è mani brutte guarda sono sceme e vabbè però cavolo uno di sopra e uno di sotto non mi ha visto quindi qua e vabbè anche il nonno dove mi ha visto il nonno ci sono fatti scambio e ha detto tu da piccolo correvi più veloce mai quindi facci tu no io mi ha visto il nonno e mi rincorre il nonno non ricordo ma vabbè l'emozio è questo nonno il nonno è qua ciao che mafiosi chi c'è un nonno ma come mi vede ve la finite ma che ne so hanno questa cosa viste guardano guardano hanno un occhio un occhio un occhio che loro hanno due occhi però hanno un terzo occhio che quel terzo occhio hanno delle telecamere perché anche se anche se sono tutto il piano di sotto mi vedono dalle telecamere perché mi sei buggato ma questo qua non l'avevo visto l'ho visto ok si ah no questo qua guarda la porta non so manco se si come si usa no non me ne ero accorto che cos'è che mafia è questa una trappola insomma non cosa non c'è qualcuno non mi ha visto ma attraverso la porta mi colpiscono ma questa cosa dovrebbero fare che sfonda la porta no no aspetta questa cosa si sente tipo un bacetto non lo so si sente mi ha detto che si sentiva tipo un bacetto ho capito no un bacetto tipo che ne so il bacetto sembra in realtà quando si chiude quella trappola la trappola della tortura ragazzi il video è finito qui lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e scrivete nei commenti se volete altri giochi tipo granny ne so so che c'è mister meat anche se è un pezzettino antico perché ora quello nuovo è granny chapter 2 non so parlare allora ci vediamo al prossimo video bye bye